Musica Emergenza Covid, il nuovo DPCM, Italia colori, zona gialla per la campagna, la sorpresa in serata. Covid, i sindaci di Buonabitacolo e di Teggiano fanno il punto della situazione. Sassano, un centro polifunzionale ed una casa albergo presso Palazzo Piccini, a breve nuovi interventi. Polla, al via il restauro della chiesa di Santa Maria dei Greci. Agenda politica di 1TV, la zona gialla per la campagna, un pomo giallo della discordia che si trasforma in limone e il ruolo dei sindaci dell'analisi di Mario Cirillo. Buonasera e bentrovati a nostro appuntamento con l'informazione. Sorpresa in serata quando il Premier Conte ha annunciato per la regione Campania l'individuazione tra le zone a criticità moderata. Molti esercenti avevano già abbassato le serrande, certi di vedere la regione inserita tra le zone arancioni, ma dopo le 20 il colpo di scena si rimanda all'entrata in vigore del decreto e per la campagna nessuna chiusura. In serata la sorpresa dal governo per la campagna, in diretta il presidente del Consiglio Conte ha annunciato la classificazione delle regioni come da ordinanza del Ministero della Salute. Una suddivisione avvenuta sulla base delle criticità individuate da regione a regione. In pochi potevano pensare che la regione Campania sarebbe stata tra le prime ad essere nominate, dato che il Premier ha iniziato a elencare per prime le regioni fascia gialla, ossia di criticità moderata. Mentre tutti erano preparati a vedere il territorio campano posizionato tra le aree con più alta criticità, ossia nella fascia arancione, con qualcuno che ipotizzava addirittura il passaggio in zona rossa, visto l'alto numero di casi di contagio da Covid registratisi nella giornata di ieri, con oltre 4.000 casi di positività accertati, dal governo è arrivata la sorpresa. Attimi di perplessità si sono diffusi nella regione, con gli esercenti di bar, pasticcerie, ristoranti e pub e quanti operano nel settore della ristorazione già pronti ad abbassare le serrande, almeno fino al prossimo 3 dicembre. In molti casi la chiusura è stata comunque adottata con la decisione di chiudere le porte delle loro attività in attesa di un miglioramento della condizione lavorativa. La zona gialla, infatti, modifica di poco quanto fin qui deciso, mantenendo in gran parte le norme adottate con il decreto dello scorso 24 ottobre. Uniche modifiche è lo stop ad ogni tipo di spostamento dalle ore 22 della sera alle 5 del mattino, se non per comprovate necessità di lavoro, stati di necessità o salute, e la chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle attività ubicate all'interno dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, di vendita dei presidi sanitari, nonché i punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Resta confermata l'apertura fino alle 18 delle attività di ristorazione, pub, bar, pasticcerie e gelaterie. Unico cambiamento è il limite temporale per l'attività di asporto che è consentito fino alle ore 22, mentre resta consentita la consegna a domicilio. Dubbi in campania per ciò che riguarda il mondo della scuola. Nell'ultimo DPCM è stata confermata l'apertura delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, didattica a distanza al 100% solo nelle scuole secondarie di secondo grado, obbligo derogabile in caso di persone affette da disabilità. Cosa accadrà invece in campania? Nel momento dell'entrata in vigore del nuovo DPCM, che è stata differita di un giorno, ossia per domani, venerdì 6 novembre, dovrebbero essere riaperte le scuole nonostante un'ordinanza della regione campania che ha prolungato la chiusura fino al 14 novembre, a meno che, nella giornata di oggi, non venga emessa una nuova ordinanza regionale che conferma la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Insomma, una confusione generale che mette a dura prova anche il popolo più obbediente e il ligio al dovere. E mentre per la campania viene decisa la zona gialla a buon abitacolo, dove una casa di riposo è posta in quarantena a seguito accertamento di positività da Covid-19, si registrano situazioni che mettono in evidenza le difficoltà nella gestione dei casi di contagio e di rischi per la popolazione. Nella mattinata di ieri è giunta la notizia della morte di un'anziana di 97 anni risultata positiva al Covid e deceduta presso la struttura. Nel frattempo, una nuova situazione di pericolo si è registrata sempre per una persona ospite della casa di riposo. Secondo quanto raccontato dal primo cittadino di buon abitacolo, pare che l'anziana nella mattinata ha avvertito dei malori ed è stato richiesto l'intervento dei sanitari, oltre ad un'attenta ricerca di un posto letto presso gli ospedali dell'ASL per procedere al ricovero della paziente. Ricerca risultata vana e per la donna ci si è limitati al trattamento con bobbola di ossigeno presso la casa di riposo, una situazione paradossale per una regione che, secondo il governo, non presenterebbe criticità. E ancora, un invito alla prudenza e a tenere duro in questo momento difficile arriva dai sindaci di Buonabitacolo e di Teggiano che hanno parlato ai cittadini per fare il punto della situazione Covid nel territorio. Vediamo. Salgono i casi di contagi nel Vallo di Diano e i sindaci tornano a parlare con cittadini attraverso dirette Facebook per fare il punto della situazione e invitare alla prudenza. Dopo Sala Consilina, ieri anche i sindaci di Buonabitacolo e di Teggiano hanno registrato i loro messaggi social. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, dopo aver informato che sono 26 le persone risultate positive a Buonabitacolo, ha spiegato che tra oggi e domani saranno effettuati i tamponi a coloro che sono entrati in contatto con i soggetti contagiati, così da poter avere numeri certi riguardo alla presenza del virus nel paese. Un riferimento poi alle ordinanze restrittive dei giorni scorsi. Determinazioni, ha precisato, assunte a seguito di una stretta interlocuzione con la prefettura di Salerno e con l'ASL. Se dovesse esserci un contenimento, potremmo rientrare nelle restrizioni regionali o nazionali. Nel caso opposto, ci saranno restrizioni ulteriori. Dobbiamo tutti avere pazienza. Si ricordi che il primo compito dei sindaci è garantire la salute dei cittadini. Chiedo un'attenta collaborazione perché possiamo contrastare il virus solo con le dovute prescrizioni. Nel pomeriggio, poi, il sindaco Guercio ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia dell'anziana positiva deceduta all'interno della casa di riposo. A Teggiano, invece, il sindaco Michele Di Cambia ha informato i cittadini che sono 15 casi di covid registrati sul territorio comunale e che la situazione al momento è sotto controllo. Poi la raccomandazione al rispetto delle regole è un riferimento all'esperienza personale di persona risultata positiva, poi conclusasi nel migliore dei modi. Il primo cittadino ha quindi invitato ad indossare sempre la mascherina, ad igienizzare le mani e a mantenere la distanza, unica difesa contro il virus con il quale ormai conviviamo da diversi mesi. Capisco che è un momento difficile e ha concluso, ma vi chiedo di rispettare queste tre regole fondamentali perché solo così riusciremo a vincere questa battaglia. Ed ora spostiamoci a Sansa, dove il sindaco Vittorio Esposito, con una lettera aperta ai cittadini, invita la comunità alla responsabilità e al rispetto delle regole. Un piccolo sforzo da parte di ciascuno per evitare che il virus possa raggiungere anche la comunità sansese. Vediamo. Con una lettera aperta ai cittadini, il sindaco di Sansa Vittorio Esposito ha voluto richiamare tutti all'unità e all'impegno collettivo per superare questo momento di grande difficoltà. Una lettera appello per esortare tutti al massimo rispetto delle poche ma importanti regole da seguire per sconfiggere il Covid necessario anche a seguito dell'aggravarsi della situazione nei territori del Vallo di Diano e Golfo di Policastro. Nella lettera il primo cittadino invita a riflettere sul pericolo e di rischio alla salute che incompe in particolare sulle persone più fragili, sottolineando come fortunatamente la comunità di Sansa al momento sembra libera da casi, manifesta la vicinanza a quelle comunità del Vallo di Diano e Golfo di Policastro in cui si registrano molteplici contagi. Al tempo stesso però invita i cittadini sansesi ad un forte impegno per evitare il diffondersi del virus a Sansa. Bisogna evitare, dichiara Esposito parlando anche da medico, che si aggravi la pressione sul sistema sanitario ed ospedaliero per consentire che vengano prestate le cure necessarie a tutti coloro che affrontano la malattia. Nella lettera ribadisce come sia sufficiente un piccolo sacrificio da parte di tutti, rispettando le norme di distanziamento, limitazione degli spostamenti, oltre ad evitare ogni occasione di assembramento. Ci aspettano mesi ancora pesanti, scrive il sindaco, con effetti deleteri sul sistema sociale ed economico e il nostro prezioso contributo è necessario per accorciare le distanze tra l'oggi e il giorno in cui certamente sconfiggeremo questo male pandemico. Ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori chiedo di resistere e di combattere questa battaglia con ogni forma di resistenza. Alle famiglie, ai giovani e ai nostri anziani chiedo di fare squadre e ritrovare il necessario spirito di appartenenza e di comunità. Ringrazio studentesse e studenti per l'impegno che mettono nel proseguire il percorso scolastico nonostante le gravi limitazioni, dando un esempio concreto su come reagire. È necessario che ognuno di noi faccia al meglio ciò che è chiamato a fare. L'unico sforzo necessario, conclude il sindaco, che si chiede a tutti noi è il rispetto delle norme. Sono certo che ognuno di voi, orgoglioso del nostro essere italiani, sanzesi, saprà bene cosa e come fare. Palazzo Piccini, sito nel centro storico di Sassano, diventerà a breve una casa-albergo ospitando anche un centro polifunzionale per anziani. È arrivata la delibera di giunta per l'approvazione del piano economico. Una casa-albergo con annesso centro polifunzionale è quanto si sta pensando di realizzare a Sassano presso Palazzo Piccini. L'amministrazione comunale con delibera di giunta dello scorso 22 ottobre ha approvato il programma economico post-gara per la realizzazione dei nuovi lavori presso lo storico palazzo ubicato nel centro storico di Sassano, dove saranno realizzati i lavori per un importo di circa 500.000 euro che andranno così ad ottimizzare e rendere ancora più funzionali alle attività di recupero e valorizzazione del centro storico di Sassano, l'antico palazzo di grande valore storico-culturale e che fino ad ora è stato spesso sede di mostre ed altre attività culturali. I fondi per la realizzazione dell'opera arrivano grazie alla partecipazione al bando della Regione Campania per l'ottenimento di finanziamenti europei derivanti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 nella tipologia di intervento 7.4.1. Si tratta di una misura dedicata a sostenere investimenti capaci di rendere, attraverso interventi di ristrutturazione ed ammodernamento, le antiche residenze in luoghi idonei ad offrire servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali. Ed è proprio in questa direzione che è partito il progetto che vede il Palazzo Piccini, destinatario di fondi per effettuare lavori. La Casa Albergo e il Centro Polifunzionale che saranno realizzate all'interno del Palazzo, sito nel Centro Storico, puntano a rendere la struttura un edificio capace di accogliere gli anziani ed avviare iniziative utili a migliorare le loro giornate. La misura infatti punta proprio a migliorare la vita in particolare nelle aree rurali e nel contempo favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese che possono anche creare occupazione. Un nuovo corso di formazione parte presso la Scuola di Formazione Socrates che punterà a creare tra i giovani figure professionali altamente specializzate di e-commerce specialist. Il corso parte a gennaio e prevede anche attività di tirocinio retribuito. La scuola di formazione Socrates di Sala Consilina, sempre più attenta alle esigenze del territorio, ma soprattutto dei giovani, continua nel suo impegno di individuare le giuste opportunità che possano essere di supporto ai ragazzi del territorio per trovare lavoro e quindi poter credere in un futuro nella loro terra. Ma l'impegno della Socrates non si ferma qui. Il lavoro dei referenti della Scuola di Formazione, Sita Sala Consilina, infatti, è anche orientato nel cercare di trasferire ai giovani le competenze giuste e di alta qualità che possa consentire loro di emergere ed anche di poter essere individuati come eccellenze da valorizzare. In questo forte impegno formativo si inserisce il nuovo corso di studio e formazione dedicato all'e-commerce, rivolto ad otto giovani in ETH, ossia ragazzi che hanno smesso gli studi e non hanno un lavoro oltre che non lo cercano, di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Alloro è dedicata questa nuova opportunità formativa che offre la Socrates e realizzata grazie a garanzia a giovani della durata complessiva di 200 ore. Le lezioni, al termine del quale concederanno ai partecipanti il titolo di e-commerce specialist, si svolgeranno interamente online e prevedono, al termine del percorso di studi, anche tre mesi di tirocinio formativo presso le aziende convenzionate. Il corso avrà inizio a gennaio 2021 per concludersi a luglio e la partecipazione è gratuita mentre sono previsti rimborsi di 500 euro l'ordine mensili come indennità di tirocinio. Al termine dei tirocini, le aziende che decideranno di assumere potranno farlo avvalendosi della totale decontribuzione per ognuno dei neoassunti. Il Comune di Polla ha indetto la gara per i lavori di restauro conservativo, recupero e consolidamento della Chiesa di Santa Maria de Greci e dell'Oratorio finanziati nell'ambito del progetto Bellezza, recuperiamo i luoghi dimenticati. La Chiesa di Santa Maria de Greci a Polla potrebbe rinascere a breve a nuova vita. Il Comune ha indetto la gara per i lavori di restauro conservativo, recupero e consolidamento della Chiesa e dell'Oratorio. Interventi finanziati nell'ambito del concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bellezza, recuperiamo i luoghi dimenticati. Nel 2016 i cittadini hanno avuto la possibilità di segnalare un luogo pubblico da recuperare. furono in tantissimi a sostenere l'iniziativa su sollecitazione del parroco Don Luigi Terranova. Tutta la comunità, le associazioni, il Comune si lasciarono coinvolgere e insieme provarono a ridare vita al loro luogo dimenticato. Si trova nel centro storico di Polla, in Piazza dei Parlamenti. La data di fondazione ignota alla costruzione ad opera di un clero di dito greco la fa risalire alla prima metà del 1300. Riedificata poi nel 1859 in seguito al terremoto del 1857 quando crollò gran parte della struttura. Nel corso dei secoli ha subito varie ristrutturazioni e nuove costruzioni come la cappella del 1627 dedicata alla Vergine del Carmine, l'oratorio che risale al 1700. Uno scrigno di tesori rimasto chiuso in attesa di ristrutturazione e sembra essere tutto pronto. L'intervento proposto si collocò in buona posizione nella graduatoria. il comune di Polla ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro. È stata ora indetta la gara dei lavori che potrebbero vedere la luce a breve. Ed ora parliamo di economia. La condizione di esclusione finanziaria coinvolge in Italia un numero molto elevato di persone ed imprese. In occasione della sesta giornata europea della microfinanza 2020, rete italiana microfinanza lancia domani 6 novembre alle ore 11 un video per promuovere il microcredito quale strumento utile per un rilancio dell'economia italiana. L'evento sarà trasmesso solo online, lo troverete sul nostro sito web. Membro dell'Associazione Rete Italiana Microfinanza è la Fondazione Antiusura NASHAC, reintegrazione solidale presieduta da Don Andrea La Regina che sostiene l'iniziativa. Per il presidente di Rete Italiana Microfinanza Giampiero Pizzo, la giornata è utile per sensibilizzare il pubblico più ampio sull'impatto sociale che la microfinanza può avere sull'economia italiana così colpita dalla crisi. È utile altresì ricordare ai responsabili politici che l'intervento pubblico a favore della microfinanza si traduce in concreti risultati sociali positivi. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Domani due incontri online della Fondazione Mida. Uno tecnico-scientifico sull'agricoltura e il sottosuolo e uno nell'ambito del ciclo di incontri, dialoghi di storia. Vediamo. In accordo alle nuove disposizioni governative contenute nell'ultimo DPCM, le grotte di Pertosa Oletta e i musei Mida saranno chiusi a partire da oggi. Non si fermano però gli eventi culturali organizzati online. Domani alle 17 si terrà un incontro tecnico-scientifico dal titolo Il microbioma del suolo, la nuova frontiera dell'agricoltura del futuro, un viaggio nel sottosuolo e le sue intime connessioni con l'uomo organizzato dalla Fondazione Mida. Nel corso dell'incontro, moderato dalla giornalista Luciano Pignataro, ci sarà la presentazione del libro I microorganismi utili in agricoltura di Vincenzo Michele Sellitto. Parteciperanno il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, e il presidente della Fondazione Mida, Francesca Antonio Dorilia. In serata dalle 19 si terrà invece il secondo appuntamento del ciclo di incontri dei dialoghi di storia 2020, programmati sempre online. L'iniziativa, a cura della professoressa Rosanna Laggio, domani vedrà la partecipazione di Rossano Pazzagli per un incontro dal titolo Patrimonio territoriale e turismo nelle aree interne italiane. Rossano Pazzagli, già direttore del Centro di ricerca per le aree interne e gli Appennini, docente di storia del territorio e dell'ambiente e membro della Società dei Territorialisti, partirà da una lettura territoriale delle aree interne italiane interessate da un processo di marginalizzazione per cogliere nel patrimonio resistente i germi di una possibile rinascita, resa ancora più necessaria dalla pandemia e comunque indispensabile per correggere lo sviluppo squilibrato generato dal modello novecentesco. Per partecipare agli incontri basta collegarsi sul sito o sulla pagina Facebook della Fondazione Mida. Mario Cirillo, direttore del sito di informazione politica AgendaPolitica.it analizzerà nella nuova puntata della rubrica L'Agenda Politica di Uno TV le decisioni assunte dal Ministro della Salute annunciate dal Premier Conte di inserire la campagna tra le aree a rischio moderato. Una decisione che dal pomo giallo della discordia si trasformerà a breve in limone giallo. Inoltre parlerà anche del ruolo che sono oggi chiamati a ricoprire i sindaci a cui vengono demandate tutte le decisioni e le responsabilità. Oggi è una giornata un po' particolare ci si aspettava magari di svegliarsi in modo diverso di svegliarsi con delle restrizioni sicuramente e non del colore giallo vero? È vero vero vero. Allora qui abbiamo il pomo della discordia che è giallo perché oggi il giallo è il colore campano regionale e quindi dobbiamo capire come mai questo colore è cambiato no? come mai dal rosso fuoco siamo passati all'arancione tenue e poi a un giallo sbiadito. È chiaro che ci sono dei numeri alla base di questa valutazione numeri che possono piacere o non piacere ai cittadini e ai governatori ma che hanno stabilito gli esperti quegli stessi esperti che vengono tanto invocati da cittadini e da governatori e da sindaci quando devono prendere delle decisioni. Ora è chiaro che bisogna capire quali sono questi indicatori sono 21 indicatori e credo di aver capito leggendo un po' insomma qualche quotidiano nazionale e quant'altro che ci sono anche degli indicatori molto precisi e raffinati perché non basta soltanto il numero dei contagiati ma vale anche il numero dei contagiati che sono sintomatici vale il numero dei contagiati che sono ricoverati ma non solo vale il numero dei contagiati che sono ricoverati in terapia intensiva ma non solo vale il numero dei contagiati ricoverati in terapia intensiva che sono in condizioni diciamo serie ovvero che sono intubati quindi delle due una o ci ha mentito qualcuno prima o ci sta mentendo qualcuno adesso la verità sinceramente non riesco a un'idea mia ce l'ho ma la tengo per me credo che poi dietro alla colorazione del pomo si nasconda un altro frutto che è il limone perché dietro tutta questa situazione c'è anche un importante giro di finanziamenti e oggi magari qualche regione non parlo della campagna che ha qualche difficoltà di carattere economico è chiaro che con una zona rossa avrebbe potuto ottenere dei fondi straordinari da elargire poi ai cittadini l'abbiamo detto ieri lo ripeto chi chiude paga adesso attendiamo la preghiera del venerdì domani e quindi ascolteremo le parole dell'imam De Luca che con ogni probabilità si limiterà semplicemente a ribadire la chiusura cioè la didattica a distanza per tutte le scuole ma non credo che metterà a mano alle altre attività produttive e poi avremo imbettive contro Conte contro la contro l'azzolina credo anche contro il ministro speranza abbiamo un nuovo nemico da qualche ora benissimo ascoltà a proposito un po' dei punti che possono essere insomma alla base poi alla fine della decisione può secondo te aver influito anche la realizzazione degli ospedali covid degli ospedali modulari covid a Salerno Caserta e Napoli nella decisione insomma la presenza comunque di questi ospedali attivati o non però comunque sono posti letto che potrebbero essere potrebbero tornare utili in campagna quindi diciamo potrebbe essere un'ulteriore copertura quindi una facilitare quindi la gestione io credo che il ministero abbia avuto contezza del numero effettivo concret disponibile immediatamente disponibile dei letti di terapia intensiva non avrebbe altrimenti fatto una scelta del genere in zona rossa ci sono regioni ben più organizzate della campagna sotto il profilo sanitario credo che la Lombardia sia non uno ma due passi avanti per quanto riguarda il numero delle strutture ospedaliere è chiaro che lì forse influisce anche la gravità della malattia e forse noi abbiamo sottovalutato ancora una volta un aspetto quando a marzo ed aprile abbiamo visto quello che accadeva in Lombardia in modo particolare in alcune province e quello che accadeva nel resto d'Italia ci siamo fatti delle domande a cui ancora oggi non abbiamo dato delle risposte scientifiche empiricamente sappiamo tutti che lì il problema è stato più grave che nel resto del paese ma per quale motivo oggi stiamo vedendo la stessa cosa cioè il quadro di marzo si sta riproponendo in Lombardia cioè in Lombardia c'è una situazione sanitaria delle persone contagiate molto più seria e grave del resto del paese che cosa ha influito il clima i vaccini lo stile di vita non ce l'hanno ancora detto però sta di fatto che oggi era rossa la Lombardia a marzo e rossa la Lombardia a novembre insomma oltre alle chiusure e alle aperture insomma le zone i colori i numeri alla fine nella realtà dei fatti poi non ci sono dati non solo a me è capitato stamattina vi dico questa insomma poi la chiudiamo qui anche per non tediare troppo chi ci ascolta non solo nelle vostre zone ma a Salerno città tanti bar del centro oggi erano chiusi perché ieri sera la notizia dell'apertura possibile è arrivata alle 20 e 20 ma un bar che ha 5 dipendenti e che deve fare una cambusa cioè deve fare un po' di provviste di un certo tipo e non ha la certezza di poter aprire il giorno dopo non è che lo fa la mattina per la mattina è il giorno prima che si organizza il lavoro e quindi hanno perso un giorno di lavoro e sono tanti bar, pasticcerie soprattutto le pasticcerie che hanno beni facilmente deteriorabili che hanno preferito rimanere con le saracinesche abbassate e questo non credo che sia un buon segnale anche perché chi decide queste cose deve capire che dietro un DPCM dietro una zona gialla, rossa, verde blu, arancione a po' come cavolo la vogliono fare ci sono le vite delle persone le vite degli imprenditori le vite dei lavoratori e quei 300-400 euro in meno che oggi quella pasticceria è incassato chi glieli dà? Conte? De Luca? anche perché diciamo un altro punto qui si parla anche di un possibile cambiamento di colore insomma perché il governo si è riservato comunque di attendere nuovi dati io non credo che la modifica secondo quello che si è aprito nel DPCM avviene con cadenza settimanale e quindi è chiaro che tra una settimana questo colore potrebbe cambiare potrebbe migliorare peggiorare non ci auguriamo che migliori per l'amor del cielo facciamo il tifo per la salute dei cittadini e quindi ci auguriamo che migliori se questo dovesse accadere però a distanza di 24 ore beh allora qui siamo davvero al ridicolo al ridicolo quindi dateci il tempo insomma di organizzarci avete detto che gli ospedali non sono in affanno voglio dire ci fidiamo? mica tanto vedremo vedremo allora ascolta però al di là di tutto intanto però ci sono dei comuni che fanno da sé cioè nel senso non attendono i sindaci i sindaci sono i veri eroi di questa lunga lunghissima vicenda che dura dai primi di marzo sono quelli che hanno chiuso per primi sono quelli che hanno distribuito i pacchi alimentari sono quelli che hanno ascoltato le paure i timori di cittadini imprese aziende ristoratori baristi gelaterie pasticcerie sono quelli che non hanno mai chiuso il cellulare e sono quelli che si confrontano quotidianamente ma non attraverso lo schermo di una diretta facebook ma di persona con tantissime persone persone vere e oggi loro hanno capito che insomma in questo in questa battaglia tra ordinanza e dpcm anzi tra dpcm ed ordinanze tanto vale organizzarsi con le ordinanze sindacali e quindi se c'è una zona che è pericolosa perché di sera ci sono assembramenti di ragazzi e quant'altro beh io non aspetto il governo non aspetto la regione la giudo lo ha fatto Buonabitacolo lo ha fatto Fisciano pochi giorni fa lo ha fatto Pagani chiudendo delle piazze dove la sera insomma era un po' complicato credo che lo faranno anche altri comuni anche perché se c'è il coprifuoco alle 22 e i ristoranti devono chiudere alle 18 io credo che sia molto più facile gestire come dire la mobilità in zone pericolose è chiaro che se c'è tutto aperto e chiudi la gente si sposta da una parte all'altra ma se alle 22 non possono andare da nessuna parte perché questa mi pare l'unica cosa certa dalle 22 se devi andare in giro deve avere un valido motivo ma fino alle 22 sostanzialmente c'è una libertà di movimento con le regole con la mascherina con il distanziamento laviamoci le mani mangiamo la mela tocchiamo il limone tutto quello che volete e dopo alle 22 è molto più semplice quindi bravi sindaci lo saranno anche nei prossimi mesi perché non finisce mica qui perché fra poco insomma arrivano anche le dolenti note quelle di una crisi economica che comincia a mordere sempre di più perché i ristoratori che oggi vedono ridotto il proprio orario di lavoro tra un mese avranno problemi se non arrivano subito i ristori e il primo interlocutore istituzionale si chiama sindaco ti voglio chiedere per le forze dell'ordine perché quando un sindaco dispone poi alla fine tra virgolette un mini lockdown una zona rossa come la vogliamo chiamare però c'è la questione controlli ce la fanno i sindaci? la procedura prevede che il sindaco debba fare la comunicazione al prefetto il quale è il rappresentante di governo ed è colui il quale è chiamato a coordinare le attività delle forze dell'ordine non solo la polizia polizia carabinieri guardie di finanza e quant'altro sul territorio per cui come dire è un po' un cavolo poi che diventa del prefetto il prefetto deve valutare quanti sono gli uomini a disposizione come disporli e dire anche al sindaco magari io ricordo a tutti che ad esempio a Salerno nonostante sia la città del lanciafiamme il lungomare non è stato chiuso le piazze dove ci sono i ritrovi dei giovani come piazza Flavio Gioia come via Roma insomma il passeggio della movita per chi non abbina la strada alla zona non sono state chiuse e perché non è stato chiuso? perché forse è complicato avere gli uomini a disposizione cioè la coperta è corta gli uomini quelli sono allora o fanno il controllo per la viabilità durante l'orario di coprifuoco oppure li metti stazionati davanti a una piazza a evitare che qualcuno entri di sera e di notte a Salerno città ci sono tra carabinieri e polizia di stato sette pattuglie sette pattuglie tra tutti immagino insomma nei comuni un po' più piccoli dove c'è magari la stazione dei carabinieri che ha le venti chiude dove ci sono soltanto due agenti di polizia municipale si puoi chiudere quello che vuoi ma chi controlla? è vero è vero devi mettere le mini anti uomo quindi proprio all'ingresso della piazza poi si aggiriamo bene io ti ringrazio Mario per questa lunga grazie sempre a voi ci aggiorniamo domani grazie di cuore a fine pranzo e per oggi termina qui il nostro telegiornale grazie per la cortesia attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata